Mai avrei pensato di poter riunirmi insieme a loro, io che li seguivo da fan, da ascoltatore. Nel tempo ho fatto amicizie con loro e per me è stata una splendida sorpresa potermi unire a loro per poter riportare sulle scene questo tributo ai Genesis. Questo era solo l'inizio, vi auguro soltanto buon ascolto e buon divertimento. Vive gente!